Simone Buti si appresta a vivere la sua prima Olimpiade, un sogno a lungo cullato, è arrivato a Rio, c'è qualche paura che ti porti con te? No, paura no, paura di no, emozioni sì, emozioni forti, fin dal primo giorno che siamo arrivati, l'Olimpiade mi immaginavo che arrivasse grosse emozioni, l'Olimpiade mi immaginavo ancora meno così, ancora più bella di come pensavo, quindi la vivrò a tutta. Dentro di te ci saranno anche delle certezze, la tua grinta, la tua voglia di far bene? Sì, la certezza appunto è quella di, come dicevamo prima, di vivermela al massimo, al massimo in campo, fuori e soprattutto in campo, perché alla fine siamo qui per questo, è andare a tutta, mettercela tutta e poi insomma cercare di raggiungere il massimo obiettivo possibile.